Carta coreana raccoglie lavori di oltre 50 artisti contemporanei tra Corea e Italia, invitati a misurarsi liberamente con un prodotto antico, capace di custodire al suo interno un'incredibile resistenza nonostante l'apparente fragilità. Nel laboratorio della carta dell'Accademia di Belle Arti di Roma, gli artisti italiani hanno stabilito per la prima volta un contatto personale con la carta Angie, la cui produzione fortemente gestuale e ripetitiva innesca delle singolari similitudini con la pratica performativa. Questa ritualità esecutiva interagisce e si interseca con la ricerca personale degli artisti invitati. Le opere presenti in mostra hanno declinato le suggestioni della carta Angie in modalità anche molto diverse che vanno dal disegno alla pittura al collage al frottage alla scultura alla sound art alla performance. Tutto il corpo di queste opere apre nuovi orizzonti di ricerca che muovendosi dall'antico entrano a pieno tito con la riflessione sul contemporaneo. Da tempo l'aspetto progettuale ha preso il sopravvento su quello esecutivo dell'opera. L'arte è progetto, è la consegna che il Novecento ha lasciato al nuovo millennio. In un presente dove le idee fanno l'opera, l'esperimento di carta coreana suggerisce un diverso punto di partenza. Una relazione risolta con la materialità dell'opera, con il suo processo esecutivo e un'attenzione anche ai tempi rallentati del fare. Progettare, con la consapevolezza di saper prefigurare il futuro, conoscendo la trama di una tessitura fatta di corteccia di gelso. Grazie a tutti.